E di tre arresti e otto denunce il bilancio dell'attività di controllo del territorio e repressione reati svolta nell'ultima settimana dai carabinieri della Compagnia di Sondrio, agli ordini del capitano Serena Federica Galvagno, con l'impiego di numerose pattuglie, soprattutto in fascia serale e notturna. In particolare i militari del nucleo radiomobile hanno stretto il cerchio intorno ad una banda di moldavi dedita a colpi nei negozi. Una coppia del paese est-europeo, residente in Valtellina, è stata arrestata per furto in concorso, compiuto nella zona commerciale di Castione e Andevenno. Altri tre loro connazionali sono stati denunciati per lo stesso reato. Il controllo ha permesso di recuperare merce da loro rubata del valore complessivo di 800 euro. Uno degli stranieri è stato anche denunciato per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere, in quanto trovato in possesso di un punteruolo modificato per manomettere la placca antitaccheggio degli articoli. Il terzo arresto, operato dagli uomini della stazione di Teglio, ha riguardato un 26enne nigeriano, nulla facente regolare in Italia, finito in carcere con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti continuata, attività che è risultato svolgere in valle da circa un anno. Di furto aggravato deve rispondere un 26enne marocchino, residente nel milanese, sottoposto a controlli nei pressi della stazione di Sondrio. Nella sua auto i militari dell'arma hanno trovato giubbotti, borse e cinture, tutto materiale contraffatto. Tre le denunce per truffa online nei confronti di soggetti, che dopo avere postato in rete merce in vendita, si facevano accreditare la somma del controvalore, senza poi inviare il prodotto. Si tratta di una piega ricorrente portata all'attenzione dei carabinieri, molti da inizio dell'anno i truffatori della rete denunciati, mentre spesso le vittime preferiscono non sporgere querela. Denunciato dai carabinieri di Ponte un cinquantenne, che per futili motivi minacciava un coetaneo con una pistola ad aria compressa, ma perfettamente somigliante ad una semiautomatica. Nei guai il buttafuori macedone di una discoteca della Bassavalle, denunciato per minacce e percosse nei confronti di un cliente del locale. Lo straniero è risultato svolgere l'attività di security senza la prescritta autorizzazione della Prefettura. Infine i carabinieri di Sondrio, allertati da una famiglia di Livigno, in collaborazione con i colleghi dell'arma e della Polizia Ferroviaria in servizio alla stazione di Bologna Centrale, hanno rintracciato un ragazzino quindicenne che già la sera precedente si era allontanato da casa per rientrare solo all'alba e che poche ore più tardi aveva messo in atto una nuova fuga, alimentando la preoccupazione dei genitori. Le indagini dei militari hanno accertato che il ragazzo in compagnia di un coetaneo dalla Valtellina aveva preso il treno arrivando fino alla stazione di Bologna, dove intorno a mezzanotte veniva rintracciato sui binari.